Buonasera, elezioni provinciali 2020. Questa sera la conferenza stampa prosegue con i candidati Presidente. Con noi c'è Federico Monegaglia, candidato Presidente per Riconquistare l'Italia, ma c'è anche il collega del Trentino Baldo Cordellini. Monegaglia, ben arrivato a questa nostra conferenza stampa. Innanzitutto, Riconquistare l'Italia è emanazione del fronte sovranista italiano. Ci può spiegare la differenza tra sovranità, sovranista e anche questo legame nazionale? Perché invece localmente si declina con questo nome? Certamente. Ma noi fondammo il fronte sovranista italiano, o meglio il suo antesignano, che era un'associazione, si chiamava Associazione Riconquistare la Sovranità, nel 2012. Siamo noi che abbiamo coniato il termine sovranismo, inizialmente sulla rete nel 2011, quando andavamo costituendo questa associazione. Noi lo intendevamo in un modo diverso dal modo in cui è andato assumendo significato nel tempo. Per noi sovranismo stava a significare l'istanza di riconquista della sovranità per ricollocare la Costituzione al vertice dell'ordinamento italiano. Perché noi prendevamo atto, e tuttora siamo convinti di questa cosa, che la Costituzione della Repubblica Italiana sia in irrimediabile contrasto con i trattati dell'Unione Europea. Quindi per noi il termine sovranismo aveva una connotazione strettamente costituzionale. Noi ci rifacciamo molto al pensiero di alcuni politici che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente, in particolare a Lelio Basso, autorevole esponente del Partito Socialista Italiano e padre costituente, e autore del terzo articolo della Costituzione. Quindi per noi il termine sovranità e il termine sovranismo era strettamente connesso al concetto di sovranità popolare, quindi di democrazia, e quindi agli articoli 1 e 3. Quindi per noi sovranismo stava a significare l'istanza di riconquista della sovranità da parte del popolo italiano per tornare ad applicare la Costituzione italiana, principalmente per quanto attiene ai rapporti economici. Quindi attraverso l'articolo 3, attraverso una forte azione pubblica volta a eliminare tutte quelle differenze e a rimuovere gli ostacoli, come dice appunto l'articolo 3, che impediscono un pieno sviluppo delle persone e una piena uguaglianza, un'uguaglianza di tipo sostanziale. Lelio Basso diceva questa sovranità io tengo. Quindi per noi appunto il termine sovranismo, da cui abbiamo coniato poi il nome del partito, fronte sovranista italiano, stava proprio a significare quella sovranità popolare che stava nel primo articolo della Costituzione. Tant'è che noi ci definiamo socialdemocratici, noi non abbiamo nulla a che fare con i partiti che oggi vengono detti sovranisti. Il sovranismo purtroppo è andato assumendo un significato meno chiaro, meno limpido di quello che noi gli avevamo dato. Talvolta tende a significare varie critiche nei confronti dell'euro, piuttosto che alcune politiche di austerità imposte all'Unione Europea, piuttosto che qualche critica del fenomeno immigrazione. Per noi invece sovranismo e sovranità fanno proprio riferimento alla Costituzione. Quindi non avete niente a che fare con Salvini o i pensieri dei sovranisti anche inglesi, Farage o cose di questo genere? No, direi di no, direi di no proprio perché noi definendoci, autodefinendoci, noi non ci autoqualifichiamo né di destra né di sinistra, proprio perché pensiamo che in questa fase storica siano termini che non siano pienamente esplicativi dei rapporti di forza che sono in atto in questo momento. Pertanto noi ci definiamo sovranisti ma di un sovranismo di tipo socialdemocratico, anzi noi diciamo sovranisti perché socialdemocratici. Però vi unisce la critica a Bruxelles e all'Unione Europea? Ci unisce in qualche modo la critica all'Unione Europea ma si unisce e in realtà ci differenzia perché la nostra non è una critica a volta a talune politiche, a talune prese di posizione delle istituzioni europee, la nostra è una critica tutto tondo all'intero sistema dell'Unione Europea che si basa su politiche di tipo espressamente liberista, che tende a rimuovere completamente l'intervento dello Stato dall'economia, intervento che come dicevo prima serve in qualche modo, come Costituzione prevede, a rimuovere quelle disuguaglianze che si manifestano nel comparto economico, quindi un sistema costituzionale volto a dare a tutti i cittadini le stesse possibilità di realizzarsi all'interno dello Stato. Siete più socialisti o più keynesiani? Sono due concetti diversi per la verità perché il keynesismo è una dottrina economica se vogliamo, il socialismo è una dottrina politica. Noi siamo socialdemocratici nel senso che ci definiamo socialisti, ma nel senso democratico del termine, quindi facciamo molto riferimento a quello che era. Però puntate molto sulla mano pubblica, mi pare di aver capito, e quindi anche su investimenti pubblici. Esattamente, quindi c'è un'impronta di keynesismo. Quindi dovesse essere contrari, per esempio, al reddito di cittadinanza e dovesse preferire investimenti in opere pubbliche, ponti, strade, stazioni. Esattamente, il nostro obiettivo, che appunto il nostro orizzonte è quello costituzionale, il nostro obiettivo è quello di realizzare la piena occupazione. Quindi in tema di reddito di cittadinanza, per esempio, noi siamo abbastanza critici, ci rendiamo conto che in questo momento adesso possa dare un qualche respiro a cittadini che si trovano in gravi condizioni di difficoltà per mancanza di lavoro, però non crediamo che sia una risposta di largo respiro che sia quella che serva adesso al Paese. Noi crediamo che uno Stato sovrano e costituzionale debba perseguire lo scopo della piena occupazione. Quindi anche attraverso un forte intervento pubblico, con investimenti in infrastrutture, in strutture, noi abbiamo anche bisogno, io credo, di un grandissimo piano di assunzioni nel comparto pubblico. Per l'Italia, contrariamente a quello che si pensa, rispetto alla media dell'Unione Europea, ha un tasso, quindi un rapporto di dipendenti pubblici sul totale della popolazione che è molto basso, è molto più basso di quello che c'è in Germania, in Francia, in Spagna e dell'intera media dell'Unione Europea. Ma questo non succede, lei si candida per la provincia di Trento e non succede in Trentino? In Trentino abbiamo un po' più di intervento pubblico, abbiamo un settore pubblico che è un po' più espanso, motivo per cui in Trentino, se si può dire un po' banalmente, si sta un po' meglio, perché comunque un forte intervento pubblico attraverso una forte presenza pubblica e quindi un ampio settore pubblico con tanti dipendenti che lavorano nel settore pubblico, che è l'unico in questo momento che riesce a garantire un'occupazione diffusa e relativamente ben retribuita, consente anche al comparto privato di ritrovare quella domanda per i propri prodotti, la cosiddetta domanda interna, nella quale in qualche modo riuscire a galleggiare, cosa che nel resto d'Italia succede molto meno in questo momento. Quindi il fatto che noi in Trentino abbiamo un intervento pubblico che sia un po' più presente, un po' più esteso rispetto al resto d'Italia, io credo che sia uno dei fattori che ci ha consentito di ammortizzare questa crisi che stiamo vivendo. Lei Monegaglia ha sostenuto più volte che in Trentino c'è molto interesse per il sovranismo, ci piacerebbe capire in che modo si declina, su quali temi, ma soprattutto anche su quali comparti generazionali? Guardi, l'interesse è sempre diffuso perché i trentini in realtà, anche contrariamente a quello che spesso si pensa, sono molto curiosi. Quindi noi siamo molto presenti sul territorio, noi da ormai 4 anni abbiamo fondato una vera e propria sezione trentina del fronte sovranista italiano, che è il partito promotore, ricordo, della lista di conquistare l'Italia. Noi siamo presenti da oltre 4 anni con le nostre attività sul territorio, organizziamo gazebi e punti informativi costantemente. Si, ci tenete molto a parlare con il popolo, con la gente, pochi social, ci ce n'è anche questo slogan. Non è uno slogan, è un dato di fatto. Usiamo anche i social evidentemente, però non è il nostro modo di espressione preferenziale. Rifiutiamo un po' queste logiche di marketing che oggi vengono un po' utilizzate da moltissimi partiti attualmente esistenti. Preferiamo invece farci apprezzare per quelle che sono le nostre analisi, i nostri approfondimenti. Allo stesso motivo per cui io anni e anni fa mi avvicinai al fronte sovranista italiano. E qual è stato il tema che l'ha tratta? Io mi sono sempre interessato di politica, ma non ho mai trovato un vero riscontro nei partiti esistenti nel panorama italiano. Per diversi motivi, ma soprattutto credo per la superficialità con cui venivano trattati certi temi. Per esempio i temi relativi all'immigrazione, piuttosto che al processo di integrazione europea. E ho sempre trovato un sacco di fanatismo, ho trovato due opposti fanatismi. Invece ho trovato nel fronte sovranista italiano una capacità di analisi, di critica, di penetrazione dei problemi, una pacatezza e una serietà che negli altri partiti non sono mai riuscito a trovare. Quindi questo è stato uno dei motivi, insieme al fatto che concordavo più o meno con tutte le analisi che venivano elaborate man mano. Questo mi ha spinto ad aderire con convinzione. Ma secondo lei si può uscire veramente dall'euro? Ci converrebbe oppure no? Ma qui bisogna fare un distinguo. Noi non vogliamo uscire dall'euro, noi vogliamo uscire dall'Unione Europea. Ma la cosa è ben diversa. E' ancora di più. E' ancora di più, ma uscire dall'euro non si può peraltro, per i trattati non lo prevedono. Mentre invece prevedono una procedura di recesso. Come è successo con la Brexit. Esattamente, come forse succederà. Sono ancora in ballo. Però diciamo che la critica che noi facciamo all'intero sistema dell'Unione Europea sono i fondamenti sui quali essa è fondata. Sono i fondamenti di libera circolazione di capitali, merci, servizi e lavoratori. Questo si realizza attraverso la cosiddetta ideologia della libera concorrenza. L'Unione Europea crea un mercato unico all'interno del quale, senza nessun tipo di intervento pubblico, o comunque riducendo via via l'intervento pubblico, senza alcun tipo di regolazione, vige questa logica di libera concorrenza, che è quella che è consentita appunto dalla libera circolazione di capitali, merci, servizi e lavoratori, che in qualche modo fa competere tutti contro tutti. È una sorta di giungla dove vige la regola del più forte, tant'è che questi regolamenti stanno portando a tutto un sistema di concentrazioni e di distruzione del tessuto piccolo e medio imprenditoriale, delle piccole attività tradizionali, perché non sono in grado di resistere e di competere, il problema è proprio quello della competizione sfrenata, con il cosiddetto grande capitale, quindi con i grandi fondi di investimento, con le grandi industrie. Questo è un fatto. Però ammetterà, è un fatto anche quello, che l'Unione Europea ci ha portato 50 anni, 60 anni di stabilità, di pace, di benessere. L'Unione Europea esiste dal 92. Sì, prima la Comunità Europea, e tutto il progetto di Giammonet e Altearo Spinelli, non ci impicchiamo alle sigle. Chiaramente, ma noi non saremmo contrarre a ritornare a qualcosa di simile alla CEA, anche per capirci. Quindi, un'area regolata da accordi, quindi non da trattati che istituiscono istituzioni sovranazionali, con poteri decisionali, con una banca centrale, indipendente per statuto, autonoma, che regola, indipendentemente dalla volontà degli stati, l'intera politica monetaria di un intero continente. Quindi è questo che noi contestiamo, principalmente. Non siamo nazionalisti, non siamo nemmeno sciovinisti. Noi auspichiamo, in seguito alla fine dell'Unione Europea, o comunque alla nostra uscita dall'Unione Europea, una serie di accordi, sia bilaterali, sia più espansi, anche con i paesi a noi vicini, e una forte collaborazione, evidentemente. Però l'Unione Europea, noi crediamo che sia un progetto fallimentare e destinato al fallimento. Non che fino a questo momento siano raggiunti, peraltro, dei grossi risultati, però parliamo anche dei sovratemi o metatemi, immigrazione, questioni ambientali forti, sono davanti a noi tutti i giorni. L'Europa non ci sta riuscendo, però comunque un dialogo è aperto. Come risolvereste voi queste grosse questioni che ci aspettano ormai? Mi richiedono di essere velocemente e urgentemente risolte. Non riguardano singoli stati, nemmeno la sola e unica comunità europea. Certamente, certamente. Ma ci sono più temi qui, evidentemente. C'è per esempio il tema dell'immigrazione. In materia di immigrazione, ma noi abbiamo una posizione, diciamo, abbastanza, secondo me, umile e concreta, che semplicemente prende atto che ci sono delle migrazioni in atto. Non mi piace molto il termine migrazioni, perché le rende un qualcosa di naturale, quando spesso e volentieri queste migrazioni dipendono anche dalla forte presenza di alcuni stati, con forti connotazioni anche storiche di tipo colonialista. Prendo ad esempio la Francia, che ha una sorta di protettorato economico, su 14 stati dell'Africa. O prendo per esempio gli Stati Uniti, o la Germania, o l'Inghilterra, che hanno alimentato su vari livelli numerose guerre, alle quali anche qualche nostro politico ha dato appoggio negli anni passati. E quindi, senz'altro, una prima, non dico soluzione, perché evidentemente sono problemi che richiedono lunghi tempi per essere risolti e che sono complessi, però una prima mossa in direzione di una soluzione di questi problemi vorrebbe che si cominciasse a prendere posizione contro questi stati che alimentano guerre, alimentano la povertà, alimentano lo sfruttamento anche ambientale all'interno dei paesi africani, prima di tutto. Dopodiché servirebbe cominciare a instaurare dei rapporti con i paesi da cui si dipartono questi flussi immigratori e cominciare a cercare di, un po' come facevamo ai tempi di Enrico Materi e Aldomoro, cominciare a instaurare un regime di collaborazione con questi paesi, cosa che l'Italia è stata veramente avanguardia negli anni 60 e negli anni 70. Quindi bisognerebbe cominciare a proporre delle misure di dialogo e di azione concreta, ma che non siano azioni di tipo imperialista, colonialista o predatorio come quelle che vengono portate avanti dai paesi che oggi buona parte fanno parte dell'Unione Europea o gli Stati Uniti. D'altra parte anche i temi ambientali evidentemente richiedono soluzioni anche condivise con molti altri Stati. Questo lo si fa, io credo, sempre con il dialogo e quindi con la costruzione anche di spazi di ricerca comuni, come è stato fatto, ma gli Stati per mettere in campo poi le politiche attuative di ciò che viene deciso o comunque proposto a livello anche sovranazionale, perché le idee è giusto che siano sovranazionali, i paesi hanno bisogno di risorse. Noi oggi ci troviamo nella totale impossibilità di spendere denaro e di investire anche in materia ambientale. Queste stesse logiche di concorrenza che pongono le nostre imprese e i nostri comparti in competizione sfrenata con le imprese di altri paesi, hanno portato a una drastica riduzione degli investimenti che non fossero strettamente necessari per aumentare la produzione, per recuperare quella competitività retrata con la quale la leva monetaria che avevamo prima della moneta unica e un moderato protezionismo in alcuni settori ci consentiva in qualche modo di assorbire. Quindi questo ha portato a un callo degli investimenti per tutto quello che non riguardasse la mera produzione, produzione che poi in molti casi è stata addirittura delocalizzata. Quindi io credo che sia giusto discutere di questi problemi in campo anche sovranazionale, attraverso spazi condivisi, della ricerca, del dialogo, però poi gli stati devono essere messi nella condizione di poter mettere in atto queste politiche. Tornando all'immigrazione, lei che è il tema più caldo che c'è in questo momento, lei mi sembra che sia un po' per la politica di aiutiamoli a casa loro, perché questo facevano Mattei nella politica degli anni 60, cercavano di aiutarli a casa loro per evitare che vengano a casa nostra, che è un po' quello che dicono anche gli attuali governanti, anche se lo declinano in maniera un po' diversa, un po' più dura, diciamo così. Quindi mi sembra che da quel punto di vista il sovranismo suo è un po' simile a quello di Salvini, simile a quello di Salvini o no? Ma guardi, il termine aiutiamoli a casa loro è diventato un po' uno slogan, io non amo molto gli slogan, ma non è tanto una questione di aiutiamoli a casa loro, allora la Costituzione ci impone, e io credo anche giustamente, un certo grado di accoglienza per chi veramente scappa da condizioni di guerra, di gravi violazioni di diritti fondamentali, e io credo che questo sia qualcosa che noi dobbiamo proseguire, è anche un obbligo morale forte, che noi siamo chiamati a rispettare. Dopodiché io credo che vada innanzitutto suddiviso tra immigrazione di tipo economico e immigrazione, diciamo, per fuga da condizioni, in qualche modo sì, in qualche modo sì, diciamo con termini un po' differenti. Cosa praticamente poco percorribile, almeno finché arrivano in mare è difficile deciderlo. Qui si pone anche la questione dei visti, dovevamo chiederci ma perché questi arrivano via mare, perché in molti casi, questo non è ovviamente un discorso estendibile a tutte le casistiche, ma a molte casistiche estendibili, c'è il problema dei visti, perché queste persone spendono 5 mila euro per venire con i barconi rischiando la vita attraversando il Mediterraneo, invece che prendere un aereo. Il problema è che le ambasciate all'interno dei vari stati europei non rilasciano i visti di ingresso a queste persone. Allora, una politica un po' più, diciamo anche intelligente, di largo respiro, sarebbe di cominciare a concedere i visti a queste persone, consentire loro di arrivare senza rischiare la vita e con costi spropositati per loro, perché poi vengono appunto da paesi molto poveri, quindi riuscire a raccimolare queste cifre per alimentare poi questo traffico di esseri umani alla fine. Quindi sarebbe quello di, anche in un'ottica attuale in cui stiamo all'interno dell'Unione Europea in questo momento e quindi anche all'interno dell'Unione Europea, vorrebbe una forte pressione anche verso gli altri stati europei perché anche loro, e magari noi potremmo dare l'esempio, comincino a concedere i visti, in modo che queste persone non arrivino con i barconi, non arrivino tutte in Italia, ma comincino anche a raggiungere le mete che vogliono raggiungere, perché molti di questi arrivano anche alla ricerca di ricongiungimenti familiari e non vengono rilasciati i visti nemmeno per il ricongiungimento familiare. È un po' quello che è successo qui in Trentino, ne abbiamo un esempio, con i canali umanitari, con i profughi sidiani che erano in Libano e sono venuti qua anche in aereo, grazie all'impegno anche della comunità di Sant'Egidio e anche sono stati ospitati, sono tuttora ospiti anche della nostra diocese alcune a Ravina. Questo qui è quello che intende lei? In qualche modo sì, questi appunto i corridoi umanitari sono stati un'iniziativa che ha riguardato, non mi ricordo credo, 800 profughi, 1000 più o meno in tutta Italia, i numeri sono quelli. Adesso sono altre quattro. Esattamente. Quindi sì, questa diciamo è una... È anche un esempio di collaborazione, non solo interreligiosa tra lo Stato. Secondo lei è una sala percorribile adesso con questo governo? Con questo governo non credo, perché questo governo io credo io credo che la Lega e il Movimento 5 Stelle siano anche composti da molte brave persone, siano anche votati da molte brave persone che in questo momento si trovano un po' nella situazione in cui si sono anche sentiti traditi dai partiti precedenti, però io non credo che questo governo sia in grado, abbia la struttura necessaria per mettere in atto politiche di largo respiro. Questo in parte la Lega, ma in particolar modo il Movimento 5 Stelle, perché io credo che sia un partito che è nato su dei presupposti sbagliati, un partito che è nato senza uno statuto, quindi senza una visione a 360 gradi, una visione politica vera e propria, ma è un partito che si fonda su un modello anche aziendalistico, se vogliamo, io non credo che abbia la struttura, lo spessore necessario e io credo che ci vorrà magari qualche anno, ma che mi verrà dimostrato, che non ci sono i presupposti perché questo sia un grande partito nazionale, se vogliamo, che abbia un ruolo veramente rilevante nella storia politica. Quindi secondo lei è un fuoco di paia? Io credo di sì. Destinato a sgonfiarsi? Destinato a sgonfiarsi. Senta, io ho una curiosità anche rispetto al programma, lo ha detto prima, lei per esempio per la sanità, oggi è venuto anche un sottosegretario di 5 Stelle, è stato a Cavalese per praticamente dire che il governo è favorevole alla riapertura del punto nascita, lei e il suo fronte sovranista cosa pensa? Si dovrebbe tornare alla sanità interamente pubblica oppure siete per un sistema misto? pubblico privato? No, noi, come dicevo, il nostro orizzonte è quello costituzionale, l'articolo 32 riconosce il diritto alla salute come un diritto fondamentale, sia dell'individuo che come una funzione sociale e quindi relativa a tutta la collettività. Quindi noi siamo fermamente convinti che sia necessario tornare a un sistema sanitario totalmente pubblico che venga finanziato per poter attuare una vera e propria globalità delle prestazioni, quindi per coprire tutti i cittadini abbia bisogno di un finanziamento forte, finanziamento, e questo è un altro forte punto che ci differenzia in questo caso dalla Lega, attraverso un sistema fiscale fortemente progressivo, come prevede l'articolo 53 della Costituzione, quindi un sistema sanitario che copra la globalità della popolazione, che non costringa, come succede oggi, molti cittadini a rivolgersi alla sanità privata, vogliamo per la riduzione di organico, adesso con i nuovi pensionamenti avremo una carenza di 20 mila addetti al settore, è un numero gigantesco. Quindi siete anche per abolire il numero chiuso nelle facoltà di medicina? Su questo non abbiamo ancora preso posizione, ma direi che sicuramente andrà in qualche modo ridimensionata questa cosa del numero chiuso, perché effettivamente è uno dei problemi che impediscono il rinnovarsi della classe medica, quindi sicuramente andrà, adesso su questo tema specifico non abbiamo ancora avuto modo di prendere posizione, però sicuramente lo prenderemo nel momento in cui si presenterà l'occasione, ma senz'altro andrà ridimensionato il tema del numero chiuso. Senta una cosa, poniamo che venga eletto, lei si batterà per la riapertura di tutti i punti nascita che sono stati chiusi, Arco e Cavallese, oppure no? Direi di sì, perché non credo che sia possibile che delle mamme incinta debbano attraversare il Trentino per andare a partorire, io credo che la chiusura dei punti nascita sia stata fatta, anzi ne sono certo, per mere questioni contabili, perché il tema della sicurezza, voglio in sicurezza si investe, quindi non esiste un vero e proprio tema della sicurezza, il problema è il finanziamento, come dicevo prima il sistema sanitario ha bisogno di forti finanziamenti, quindi c'è bisogno di tornare a un forte sistema progressivo dove chi veramente possiede i capitali invece che andare a cercare rendite e plus valenze in scommesse finanziarie contribuisca maggiormente all'intero sistema paese e in particolare al comparto sanitario. Sui vaccini come la pensate? Siete per l'obbligatorietà oppure no? Ma guardi, sui vaccini non vorrei prendere posizione pro vaccini o contro vaccini, perché si sono formate queste due macro categorie, questa dicotomia che secondo me non è salutare al dibattito e non consente di vedere il tema con la necessaria chiarezza, allora io credo che si possa parlare di obbligo vaccinale per moltissimi dei vaccini che sono stati interessati diciamo dalla legge, ma credo che il modo in cui sia stato proposto, quindi questa legge è calata dall'alto, spesso anche il dibattito poi è stato molto inquinato e di questo ha anche una grossa colpa alla comunità scientifica dalla quale io provengo, lo dico con anche un certo rancore se vogliamo, perché la comunità scientifica si è spesso, non sempre fortunatamente, ma spesso imposta anche nei dibattiti televisivi o nei dibattiti sui social network con una certa supponenza e sostenendo che la scienza non sia democratica e che quindi i cittadini debbano accettare il fatto che se scientificamente è approvato che i vaccini siano efficaci, allora è giusto imporre i vaccini per legge, io credo che scienza e politica vadano un po' separate, quindi la scienza propone ma la politica attua e legifera, quindi in merito al tema dei vaccini io credo che si sia sbagliato completamente l'approccio. A collegarli all'iscrizione a scuola? Esattamente. Perché vale a dare anche il diritto all'istruzione? Va a dare anche il diritto all'istruzione. Quindi secondo me sono due binari distinti. Sono due binari distinti, credo che sia anche giusto in alcuni casi e probabilmente in tutti anche imporre l'obbligo perché è anche un metodo per tutelare gli altri bambini, però credo che il modo in cui sia stato percorso questo obbligo vaccinale sia sbagliato. Università, il post Cipolletta secondo lei doveva essere deciso da questa giunta oppure attendere, visto che anche secondo Fugati il dipartimento della conoscenza è strategico, fondamentale? Guardi, io non credo che debba essere deciso dalla giunta, io credo e questo è un problema che riguarda molti più settori, io credo che in un sistema democratico, cambisca perlomeno essere democratico, in cui considerando la democrazia come quella cinghia di trasmissione che dal voto si traduce in rappresentanza e io credo che il vero organo rappresentativo sia il Parlamento, non il Governo e quindi a livello provinciale sia il Consiglio provinciale e non tanto la giunta, io credo che le scelte debbano essere effettuate dall'intero Consiglio provinciale e questo riguarda non solo evidentemente la questione del nuovo Presidente dell'Università ma che riguardi tutta una pluralità di temi che coinvolgono per esempio la sanità, oggi dall'aziendalizzazione della sanità che abbiamo avuto in Italia a partire dal 92 che abbiamo poi recepito in Trentino con la legge provinciale nel 93, da un sistema sanitario diffuso basato sulle unità sanitarie locali siamo passati a un accentramento di funzioni nella provincia attraverso l'azienda sanitaria, mentre una volta i comitati di gestione venivano scelti dai consorzi dei comuni, dai consigli comunali, adesso vengono scelti unicamente dall'assessore alla sanità o dall'aggiunta nel suo complesso, cambia poco. E questo riguarda un po' tutti quegli consigli d'amministrazione perché oggi sempre attraverso questa spinta all'esternalizzazione promossa dalle istituzioni europee, noi abbiamo fatto una privatizzazione formale di tutti gli enti che riguardano i servizi pubblici essenziali trentini, dalla edilizia popolare attraverso l'aziendalizzazione di TESPA che oggi è una società per capitali, dai trasporti con Tresnidos Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio, tutti i servizi pubblici sono stati formalmente privatizzati, ovvero riconvertiti in società per azioni, come è successo in tutto il resto dell'Italia, in barba al nostro declamarci autonomisti, in realtà siamo stati più italiani degli italiani quasi, siamo stati molto solerti a fare questo processo. Quindi tutti questi enti di cui i partiti azionari poi non sono stati venduti ma perché il processo si è arrestato per varie ragioni in tutta Italia, oggi hanno dei consigli d'amministrazione che vengono scelti dalla giunta e non dall'intero consiglio provinciale, quindi non riflettono veramente un'idea di rappresentatività dell'elettorato e questo ci porta a, siccome la democrazia riguarda anche tutti questi enti economici che riguardano tutti i servizi pubblici essenziali, oggi ci troviamo da un'idea di autonomia che dovrà essere un autogoverno dei cittadini, un autogoverno democratico e partecipato, una sorta di autogoverno dei consigli di amministrazione, consigli di amministrazione che sono scelti unicamente dalla giunta. Senta, l'università ha un credito di quasi 200 milioni adesso nei confronti della provincia, adesso la provincia sta iniziando a restituirli, quest'anno restituita 30 milioni, c'è chi, ci sono illustri professori, accademici che dicono che questo strozza un po' la capacità di ricerca e anche la capacità di investire nel futuro dell'università, lei cosa ne pensa? Ma questo è un problema molto generalizzato, allora i debiti della pubblica amministrazione sono un cancro che ormai speriamo sia a livello dei comuni che a livello della provincia e sono proprio legati anche a questi stringentissimi vincoli di bilancio che impediscono in qualche modo alle pubbliche amministrazioni di disporre di bilanci anche in deficit, non c'è che promuove in qualche modo l'economia. Quindi generalmente la manovra del governo e la nota al DEF la trovano favorevole, non nei contenuti ma quantomeno nel deficit al 2-4%? No, Renzi ha fatto un deficit del 3%, è una manovra terribilmente timida, infatti non si capisce tutta questa guerra che ci si fa tra istituzioni europee e governo per una manovra di una timidezza incredibile. Obama era arrivato al 10%, no? Obama era arrivato al 10%. Quindi lei auspica politiche debitori così importanti? Io credo in politiche espansive, io credo che in questo momento in cui viviamo… Però qualcuno li dovrà rimettere questi soldi, dovrà restituirli? No, non è mai successo nella storia, il debito pubblico è diventato un problema dall'81, da quando noi abbiamo reso indipendente la Banca Centrale Italiana e poi abbiamo trasferito il potere della politica monetaria ed economica alla BCE, ma prima quando uno Stato contraeva un debito, contraeva un debito con se stesso, allora questa ideologia che lo Stato vada governato come una famiglia, uno Stato è l'ente pubblico per definizione, la famiglia è l'ente privato per definizione, è un'ideologia sbagliata e falsa, il bilancio di uno Stato non c'entra nulla col bilancio di una famiglia e su questo si è costruito un intero sistema di fake news se vogliamo, va di modo al termine, che in qualche modo ci ha fatto accettare tutte delle politiche di austerità e rigore di bilancio che non aveva nessun senso accettare. Brevissimamente abbiamo soltanto due minuti, io volevo agganciare la questione dell'autonomia, che cos'è per voi, non soltanto il rapporto all'altro Adige, ma soprattutto a un governo italiano che non è proprio amico in questo momento, in pochissimo tempo. Ma io credo che la questione dell'autonomia vada un po' rideclinata rispetto alla concezione un po' più classica che noi abbiamo dell'autonomia, rispetto al panorama attuale nel quale ci troviamo a vivere. Io chiedo sempre, ma in quale perimetro ci troviamo ad attuare l'autonomia? L'autonomia è stata sancita dalla Costituzione in qualche modo, quindi la Costituzione ci chiama ad attuare uno statuto d'autonomia, ma oggi ci troviamo ad attuare questo statuto d'autonomia all'interno di un pezzo di mercato unico, perché l'Italia da quando non è più uno Stato, perché da quando siamo entrati nell'Unione Europea siamo diventati una porzione di mercato unico. Quindi non abbiamo più la facoltà di disciplinare il lavoro, di disciplinare i rapporti economici, quindi anche l'autonomia si riduce a tutta una serie di funzioni tecniche, anche dal punto legislativo, che vanno a risolvere problemi assolutamente parziali. E non abbiamo la possibilità, questo né a livello italiano, ma né attraverso il trasferimento di competenze, attraverso la nostra autonomia, di creare posti di lavoro, per esempio. Non possiamo fare politiche attive di lavoro perché ci viene impedito dai trattati dell'Unione Europea. Questo è espressamente sancito, in maniera implicita, ma è espressamente sancito dai trattati dell'Unione Europea. I trattati dell'Unione Europea perseguono la stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi è incompatibile con la piena occupazione. Quindi di che autonomia parliamo? Bene, con quest'ultimo argomento dell'autonomia si conclude questa nostra conferenza stampa dedicata ai candidati presidenti. Ringraziamo Federico Monegaglia, ringrazio anche il collega del Trentino. A voi una buona serata.